E' purtroppo uno degli appuntamenti fissi di ogni campagna elettorale quello con i manifesti abusivi. Il primo bilancio dei controlli della Polizia Municipale è di 452 manifesti fuori legge trovati e di 192 cartelloni di pubblicità elettorale rimossi. L'associazione di volontari Retake Palermo in questi giorni ha lanciato una campagna proprio per contribuire alla lotta contro l'abusivismo. Qualunque cittadino può inviarci una fotografia del manifesto, del volantino, dell'adesivo affisso abusivamente, lo manda sulla nostra pagina e noi lo giriamo oltre che sui nostri canali Facebook e Twitter anche alle autorità, in questo caso alla Polizia Municipale. Il record di manifesti elettorali abusivi va a un candidato del Consiglio Comunale 95, quelli per i quali è scattata la multa. Noi di questa persona abbiamo ricevuto circa 120 segnalazioni, tutte girate alla Polizia Municipale. Praticamente camminando alla Noce o alla Zisa voi troverete su ogni palo un suo adesivo. Per gli abusivi dei manifesti sono previste sanzioni tra i 103 e i 1.032 euro da dividere tra committente ed esecutore. Alcune zone di Palermo inoltre risultano essere più tapezzate di altre. L'abusivismo maggiore lo abbiamo riscontrato alla Zisa, alla Cuba e alla Noce, comunque nelle borgate di periferia. Al centro storico molto meno. E mentre i controlli della Polizia Municipale continuano anche in questi giorni, dall'associazione arriva un invito agli elettori, ovvero boicottare gli abusivi. La campagna l'abbiamo chiamata Boicotta chi sporca, proprio per ricordare ciò che fanno questi candidati. A noi sembra naturale che chi si candida ad amministrare questa città debba essere il primo a non sporcarlo. E proprio per questo nell'imminenza delle elezioni, circa quattro giorni prima, noi pubblicheremo nuovamente l'elenco di tutte le persone, di tutti i candidati che hanno sporcato la città durante la campagna elettorale. Grazie.